Centro operativo comunale aperto da domani alle 14 fino alla stessa ora di venerdì 25 per un evento di grande portata come quello del G7, il sistema di protezione civile al comune di Pescara non poteva che essere in prima linea. Zone rosse presidiate per gran parte della giornata e volontari pronti a dare delucidazioni e mettersi a disposizione dei cittadini. Ricordiamo che sono 5 le zone di massima sicurezza, quella dell'Aurum dove il divieto di transito nelle vie indicate, sul sito del comune sarà dalle 14 del 21 ottobre all'1 del 25, con divieto di sosta e fermata dalle 6 del 21 e parcheggio riservato in via Costantino Barbella. Quella della Museo Imago dalle 15 del 22 ottobre all'1 del 23, la zona rossa di Cascella con divieto di transito dalle 15 alle 19 del 23, la zona risorgimento per intenderci da Piazza Unione a Piazza Italia dalle 15 del 23 all'1 del 24 e dalle 15 del 24 all'1 del 25 e per finire la zona del Museo dell'Ottocento con divieto dalle 18 del 22 all'1 del 23. Ci sarà l'apertura alle 2, quindi alle ore 14 fino all'1 di notte, poi il giorno successivo dalle 7 di mattina fino all'1 di notte fino ad arrivare a venerdì, quando chiudere il COC, dalle 7 di mattina alle ore 14. Quindi potete chiamare, quindi cittadini, la comunità può chiamare tranquillamente in qualsiasi orario, ci saranno vari volontari che saranno risposti a, come dire, doneranno il loro tempo per aiutare le persone, soprattutto e presumo per la viabilità o se ci fossero delle problematiche inerenti a qualcuno che si deve spostare nella zona rossa, allo 085 4283 400. Quest'anno, a partire da questo evento e per i successivi, quindi parliamo di calamità naturali o di eventi, abbiamo introdotto una nuova novità, unica in Abruzzo, cioè abbiamo fornito a due ragazzi volontari della protezione civile che sono sordi, che però interagiscono bene con noi, quindi grazie a Dio hanno, come dire, una sordità lieve e abbiamo fornito loro un palmare, un cellulare, che con un numero WhatsApp, dove praticamente questi disabili, quindi i sordi, potranno collegarsi per essere aiutati anche loro per quanto riguarda le questioni della viabilità o altre calamità naturali per il futuro. La protezione civile mi sono già organizzato con alcune associazioni e mi viene in mente il Papa Paolo VI e il Don Orione che nel caso in cui avessero problemi è pronta già una macchina della protezione civile con dei volontari per scortarli e mi riferisco soprattutto al Papa Paolo VI che è adiacente, una sede adiacente alla questione di Pescara, dove è zona rossa. Ogni blocco stradale ci sarà sicuramente un volontario della protezione civile e ci sarà sicuramente un'autorità di polizia giudiziaria, sia essa polizia municipale o altre autorità, che ovviamente nella protezione civile ha il compito di indirizzare, non il traffico perché non possiamo farlo, ma soprattutto dare consigli alle persone su strade alternative.